Siamo in diretta con il mister Pacino, Sergio Pacino, tecnico della Promosport. Allora mister, uno sciarbo 0-0 credo che poi alla fine voglio dire sia risultato giusto. Secondo me non è stato uno sciarbo 0-0 perché è stata una partita combattuta con ritmi abbastanza alti. Si giocava sempre contro una squadra che lotta per vincere il campionato, quindi penso che noi abbiamo fatto un grosso figurone visto le ultime partite che abbiamo fatto. Abbiamo di fronte una squadra che aveva intenzione di vincere a tutti i costi, però penso che oggi ha trovato una squadra combatta, è stata una squadra che ha cercato di ripartire nel miglior modo possibile. Purtroppo poi ci capita un po' di sfortuna che fa centrale il nuovo acquisto e si fa male. Però penso che oggi ci è mancato solo il gol. Anche il Praia poteva vincere la partita, però io tiri in porto del Praia e ne ho visto veramente poche. Con noi anche Gentile Giampaolo, tecnico del Praia Torta, la partita non è stata una delle nostre migliori, anche se all'inizio abbiamo avuto due ripartenze che avremmo potuto concretizzare meglio, due volte in seguità numerica, una volta 4 contro 2, 2 contro 1, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Da parte sua la Promo Sport ha fatto la sua partita, ci ha messo un po' in difficoltà che ci passavano, però all'ultimo avevamo più gambe, avremmo potuto avere un pochettino di più. Non siamo riusciti, abbiamo avuto la punizione con Petrone. Forse il gol che poi ha annullato, un fuorigioco molto dubbio, però alla fine il risultato penso sia stato il risultato più giusto, anche se abbiamo creato qualcosetto in più della Promo Sport.